Con l'inizio della stagione estiva, il conseguente notevole afflusso di bagnanti sulle spiagge e l'incremento della movimentazione di gommoni ed altre imbarcazioni nei territori costieri della provincia di Salerno, sono partiti, come disposto in sede di riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e di Tavolo Tecnico in Questura, i servizi di pattugliamento costiero, svolti dai polizzotti della Questura di Salerno a bordo degli Acquascude. Il pattugliamento della costa è realizzato in piena sinergia con i carabinieri, la Guardia di Finanza, gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale e diretto al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I controlli, infatti, sono stati svolti con un primo screening in acqua, con l'avvicinamento alle imbarcazioni nel rispetto delle misure di sicurezza. in considerazione delle condizioni del mare, a tutela degli operatori e dei cittadini. In particolare, nella giornata di sabato 22 giugno, sono state controllate 147 persone, 8 imbarcazioni, ed eseguiti alcuni controlli riguardanti un positivo e una sospensione di patente e verbalizzate due imbarcazioni. Dobbiamo evitare assolutamente di avere incidenti con ripercussioni gravi per chi è in mezzo al mare. Lo abbiamo deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e poi una stretta sinergia con le altre forze di polizia. Noi siamo convinti che la presenza di questi servizi serva a garantire un'estate sicura. Lo faremo con una frequenza periodica, lo faremo su tutta la provincia di Salerno, ma quello che conta, quello che mi preme dire in questo momento, è attenzione che i controlli ci saranno. Dal 1 luglio ci saranno dei rinforzi per la fascia costiera, che riguarderà la zona di Battipaglia a scendere giù e anche la zona della costiera malfitana. Anche questi rinforzi sono stati programmati, e riguardano anche le altre forze di polizia, sono stati programmati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sono giovani che verranno a integrare il sistema sicurezza di questa provincia.